Cristina C deliverance Reviewer Quanti di voi hanno un cane e un gatto a casa? Tanti! Sappiate che avete un vantaggio evolutivo da questo punto di vista. Quelli che vedete sono soltanto alcuni retagli di giornali, ma veramente pochi, che dicono come avere un animale a casa ci renda persone più intelligenti, anche i bambini più intelligenti, rinforza il sistema immunitario, soffremmo meno di allergie, abbiamo meno probabilità di contrarre infarti addirittura. Ma perché succede questo? Cioè perché nel momento in cui tu accarezzi un cane si abbassa la pressione sanguigna, liberi endorfine e via dicendo? Beh, la motivazione principale è che il bisogno di relazionarci agli animali è innestato nel nostro DNA, ci siamo coevoluti con loro, cioè non esiste un'umanità senza le altre specie animali. E questo vale per tutte le culture, anche quelle più povere. Questa è la fotografia di una fase che si chiama maternaggio, che è stato quello che per esempio ha reso possibile la domesticazione del lupo che poi è diventato cane. Noi pensiamo agli animali e ci confrontiamo con loro ogni volta che dobbiamo creare, immaginare, ogni volta che dobbiamo anche soltanto costruire la nostra identità di esseri umani. Spesso il concetto di animalità era tutto ciò che non è umano, oggi la si pensa un pochino diversamente, anche l'essere umano ha una propria animalità. Ecco, va la pena però di considerare questo, non è sufficiente avere un cane in giardino così per avere dei benefici, o se non altro questi benefici possono essere massimizzati. Ma come? Rendendoci conto che in ognuna di queste piccole teste, o grandi teste, anche se parliamo per esempio degli elefanti, esiste un mondo, una soggettività, un particolare modo di percepire il mondo, una vita emotiva. E già Darwin nel 1800 scriveva l'espressione delle emozioni nell'animale e nell'uomo comparandole tra di loro. Ecco, quello che stiamo per vedere è un filmato di un gorilla che si chiama Cocco, è una femmina di gorilla a cui è stato insegnato il linguaggio dei segni, quindi Cocco può raccontare come si sente, è interessante questo. Quindi qui Cocco sarà alle prese con un film, che è il suo film preferito, c'è una parte molto particolare però in questo film, in cui c'è un commiato tra un bambino e la propria mamma, le persone a cui questo bambino è affezionato, e Cocco vive talmente intensamente questa cosa, talmente tanto si dispiace che gira le spalle. Si mette di schiena, non vuole guardare. E guardate l'espressione, guardate l'espressione, cioè no è troppo forte questa cosa. C'è una canzone sui coraggio, o recite un poema sui coraggio. Il video continua. Hai coraggio, amore, hai coraggio? Hai coraggio? Hai coraggio? Hai coraggio? Hai coraggio molto coraggio. Adesso comincio a gesticolare. Buono, c'è qualcosa che posso fare per te? Ho sorriso. Oh amore, è triste, lo so che è una scena triste. Oh, e stanno piangendo, stanno piangendo in un film. Oh amore, e hanno una situazione difficile. Oh, la dolcezza della mamma, sì, la dolcezza della mamma. È così buona. Amore. Beh, lo so, è difficile guardare. Non volevo guardare. È una piccola incursione nella mente di un animale. E pensate quando questi animali noi li prendiamo, li rendiamo schiavi, li mettiamo in uno zoo e poi andiamo lì mangiandoci le noccioline. Che tipo di realtà loro devono vivere, no? Allora, è interessante la frase di Conrad Lorenz che dice chiunque conosca intimamente un mammifero superiore come un cane o una scimmia non si convince che tale essere a sentimenti simili ai suoi è psichicamente anormale. Ed è questo renderci conto che ci rende esseri umani migliori, ma non migliori. Gandhi già diceva il progresso morale di una nazione la si può misurare in base a come tratta gli animali, no? Il fatto è che se noi riconosciamo nell'animale una mente pensante, allora sorgono degli interrogativi. Possiamo confrontarci, possiamo capire che cosa sta succedendo lì dentro. E poi un'altra bella cosa è che l'animale, soprattutto i nostri cani a casa, ti accettano un po' così come sei. sono maestri di accettazione incondizionata, che tu sia alto, basso, ricco, povero, loro non ne frega nulla, però sono molto distanti da noi, sono più distanti di altri esseri umani. Ed ecco che diventa questa relazione una palestra per esercitare empatia, compassione, comunicazione non verbale, via dicendo. C'è stato uno psicologo, un neuroscienziato per la precisione, ha studiato il modo in cui i cani ci amano, li ha sottoposti ad una tomografia di missioni di positrone, mentre il cane era in resta, gli aveva insegnato questa cosa, però c'è stato un consenso per i cani, potevano andarsene quando volevano, è un consenso per i proprietari che hanno dovuto firmare, perché dovevano essere trattati anche bene. Ebbene, lui ha scoperto non soltanto che gli animali ci amano, ma anche il modo particolare in cui lo fanno, e la cosa straordinaria è che poi abbia scritto un articolo apparso su New York Times dal titolo che anche i cani sono persone. Perché persone? Perché noi lo utilizziamo come sinonimo, umano uguale persona. No, persona deriva da maschera, carattere, quello che caratterizza un individuo, e quanti di noi che hanno il proprio cane a casa, anche due cani, della stessa cucciolata, ognuno ha la propria personalità, diciamo. E questo è renderci conto che magnifica questa relazione. Ci sono state anche delle sentenze giuridiche, che in India hanno decretato che i delfini sono persone non umane. La corte dei giudici di Buenos Aires ha decretato che un orangutan che viveva nello zoo di Buenos Aires fosse una persona non umana, ne ha ordinato l'immediata scarcerazione, quindi poi se ne sono occupati in un santuario in Brasile. Quindi anche giuridicamente c'è un seguito da questo punto di vista. Ed è nato un movimento che si chiama Minding Animals. Non soltanto mente, ma anche presta attenzione, no? Mind the step, occhio al gradino. Ecco, Minding Animals significa quindi riconoscere che gli animali abbiano una mente e trattarli con attenzione, trattarli con cura. C'è stato uno psicologo che si chiama Paul Ekman che ha studiato l'espressione delle emozioni negli esseri umani e ha visto che in tutto il mondo gioia, tristezza, paura, sorpresa, disgusto vengono espresse nello stesso modo. Ebbene, hanno fatto lo stesso studio nei cani ed è il risultato che anche loro, tutti quanti hanno delle espressioni comuni. E il nostro, diciamo che le nostre capacità impattiche vengono sviluppate nel momento in cui ci esercitiamo a guardare queste espressioni. In modo che quando siamo di fronte ad un animale possiamo renderci conto, come in questo caso per esempio, che c'è disagio, una lieve paura, oppure euforia. O al contrario, quando ci relazioniamo con animali selvatici non sono soltanto belli da vedere ma possiamo riconoscere protezione, cura, amore esattamente come ci dicono gli etologi cognitivi. Questi sono makaki che fanno il bagno in acque termali in Giappone sono delle pozze termali libere soprattutto per loro, sono diventate un'icona e riuscite a vederla questa espressione di completo relax e abbandono sul loro volto, giusto? Come anche qui possiamo vedere un'espressione di curiosità e attenzione questa è la faccia di un animale vivo che fa esattamente la vita che dovrebbe fare è molto, molto, molto diverso rispetto a quando ci sono situazioni come queste non brutte soltanto perché sono in gabbia e che noi su questi volti possiamo riconoscere disperazione rassegnazione questa testa inclinata di lato e la bocca aperta e gli occhi bassi e dire ho urlato, ho urlato tutto il tempo ma nessuno ha aperto questa caspita di gabbia e attenzione la maggior parte degli animali che sul nostro pianeta interagiscono con gli esseri umani vivono in questo modo perché noi abbiamo una convinzione è fatto tutto per noi non rendendoci conto che invece siamo in un ecosistema siamo interdipendenti non siamo in un sistema isolato non siamo al centro siamo parte della rete della vita questa è una foto terribile di un animale che viene schiavizzato cioè inseguito per molti animali succede questo ed è parte di una campagna di PETA quanto è diverso invece guardare gli animali nel loro habitat o che fanno la vita che devono e sull'espressione del piccolo voi potete guardare che c'è curiosità giocosità e nell'espressione della mamma un sacco di pazienza e uno dice ma angelo possibile anche negli occhi di un ippopotamo io posso vedere queste cose ma se è insicuro non è che l'espressione è sempre quella beh vi dico quando un ippopotamo è arrabbiato ve ne accorgete subito senza ombra di dubbio vale la pena quindi e per questo gli animali soprattutto quelli nelle nostre case diventano cioè ci lanciano la possibilità di esercitarci non nello sviluppare empatia perché ad ogni nostra azione gesticolazione il tono di voce espressione del volto stringere le distanze allontanarci guardare una parte o dall'altra loro cambiano la loro espressione anche di poco ed è essere attenti alle sottigliezze che ci rende ancora più bravi empaticamente per esempio queste sono le due foto del mio cane sembrano identiche ma ci sono delle differenze nella foto di destra avete delle orecchie più larghe per esempio avete una testa che si scosta di lato è una testa lievemente più bassa e questo ha un significato ma la prima cosa che dobbiamo fare è accorgercene di questa cosa non è tanto attribuirgli subito il significato è vivendo con loro che si imparano un po' le cose ecco che così possiamo andare ancora più a fondo e riconoscere tenerezza tra l'altro gli animali sono genitori favolosi non distratti dagli smartphone riuscite a vederle adesso queste cose quindi non è un'impressione non è che uno vede una foto come questa e dice sembra quasi che sia amore no no è proprio così sono capaci di questi sentimenti gli animali così come anche possiamo vedere l'intensità di questo sguardo tra un genitore e il piccolo ho una bambina di nove anni e ho visto tanti genitori me compreso a volte che non avevo la stessa pazienza degli animali sono genitori favolosi possiamo imparare tanto da loro qui c'è un sacco di presenza non sono distratto con altro e tra l'altro questa presenza è personalizzata allo stato in cui ti trovi in questo momento non soltanto a te come individuo presenza cioè essere lì non mentre il tuo figlio ti parla o ci fai qualcosa a te stai pensando già ad altre cose è uno dei mali del nostro tempo è quello che alza lo stress così tanto così come anche vuoi occuparti di altro ma sto attento a quello che fai supervisiono oppure questo è ancora più interessante avete un cucciolo che viene redarguito e ammonito questa cosa non devi farla lo vedete no che è contrariato il cucciolo però guardate è l'espressione dell'adulto cioè gli sta dicendo non è in dubbio l'amore che io provo per te non sei in dubbio tu in quanto individuo è in dubbio soltanto il tuo comportamento e quante volte noi ce ne dimentichiamo se non fai come ti dico ti privo del mio amore ecco che gli animali diventano maestri anche di amore incondizionato non dipende da quello che fai quanto io bene ti voglio posso darti una guida posso educarti da questo punto di vista ma non è in dubbio quello che io provo per te questo crea esseri umani sani oltre che animali sani allora quello che secondo me noi dovremmo notare a questo punto è questo la mente degli animali quella che procura tutte queste emozioni cognizioni aspettative piani curiosità creatività addirittura per molti animali è un insieme di piccoli punti che noi chiamiamo neuroni che tra di loro interconnettendosi diventano un cervello diventano una mente ma la stessa cosa funziona anche tra individui o meglio tra organi del corpo per esempio poi hai un individuo ma tra individui succede una cosa cioè diventa un'entità diversa cioè le proprietà di una cellula sono diverse da quelle di un tessuto di un cervello le proprietà di una società o di un gruppo sociale sono diverse da quelle del singolo individuo ma c'è ancora di più da fare da questo punto di vista nel senso diversi etologi cognitivi diversi etologi anche oggi dicono alla base dell'evoluzione è possibile che non ci sia stata la competizione ma la cooperazione anche tra specie differenti questo è quello che noi dovremmo ricordarci non più metterci al di sopra degli altri animali pensando di essere l'essere umano è più intelligente oggi si parla di intelligenze anche all'interno degli esseri umani stessi e soltanto della specie umana voglio dire Einstein diceva ognuno è un genio ma se giudichi un pesce dalla sua capacità di salire sugli alberi quello penserà di essere uno stupido per tutta la vita non possiamo prendere la nostra scala umana attribuire agli altri animali e dire beh questi qua sono stupidi perché io ce lo vedo un uccello migratore che guarda dall'alto e in basso un essere umano che si è perso in campagna in montagna e dice guarda stoppirla io attraverso i continenti orientandomi coi campi elettromagnetici e questo non riesce invece ad orientarsi in un fazzoletto di terra grosso così sono intelligenze diverse una volta una mia amica ha intervistato Margherita Hack le ha detto dottoressa ma che mi dice dell'intelligenza degli animali e lei fa ognuno ha intelligenza che gli serve e allora se questo è il punto cioè cooperare anche tra specie differenti per creare un ambiente ancora più rispettoso dei nostri bisogni che ci facciano ritrovare il senso della nostra esistenza vale la pena appunto di considerare la cooperazione interspecie e gli animali ce lo insegnano quindi io mi sono detto perché no perché ho visto tante cose da questo punto di vista perché no questa è un'alleanza tra leoni perché no perché no grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti